L'Yadi è totalmente impazzito, no sul serio, è andato fuori di testa. Negli ultimi giorni una diretta su Instagram ne ha sparate di tutti i colori. In modo particolare se l'è presa con Karaboo e Mitch, ma prima di continuare, ormai già lo sai, se ti piacciono questi contenuti ti invito a seguirmi. Per quanto riguarda la prima, se non la conosci, è una rapper emergente dei Concrete Boys, collettivo fondato dall'Yadi stesso, anche se a questo punto potremmo già definirla ex-membro. Sembrerebbe infatti che abbia un debito di 900.000 dollari è che Lilbo te l'abbia scritto la maggior parte dei suoi testi, compreso anche l'On The Rather Freestyle che l'ha resa virale. Parlando di Mitch invece, nel caso in cui non sapessi chi è, è il co-host degli Yadi in A Safe Place, un podcast creato da quest'ultimo che negli ultimi mesi in America sta andando molto bene. Beh, se lo conosci sei un fan o una brutta notizia per te? Verrà cancellato. In modo particolare Yadi ha detto Non voglio fare alcun tipo di podcast, sono un rapper, ho messo 400.000 dollari nelle tasche di Mitch. Quest'ultimo infatti era uno dei suoi migliori amici e prima di questo podcast non era nessuno, letteralmente. Direi che tutto sommato è stata una settimana molto intensa per gli Yadi. Che ne pensi? Scrivimelo nei commenti.